Le compagnie di assicurazione sono pronte a diventare fonti di credito per le imprese. Grazie a una serie di iniziative del Governo, in primis il decreto competitività e all'aggiornamento delle normative, il settore si appresta ad allargare il proprio raggio d'azione in direzione dell'economia reale e del sostegno alle imprese che faticano a trovare finanziamenti. Per spiegare tutte le novità, anche quelle del Regolamento 36 dell'Ivas, l'ANIA, l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, ha organizzato un workshop a Milano, presenti in sede o in videoconferenza da Roma, rappresentanti del Governo, dell'autority che vigila sul settore assicurativo, l'Ivas, delle imprese assicuratrici, oltre al padrone di casa, il direttore generale di ANIA, Dario Focarelli. L'iniziativa di oggi va inquadrata in un contesto generale, un contesto in cui i rendimenti sui diritti di Stato si sono ridotti in maniera significativa e le compagnie di assicurazione hanno da gestire degli asset importanti, crescenti negli ultimi mesi e che in qualche modo cercano un diverso mix tra rischio e rendimento in termini di diversificazione. La prima sessione del workshop ha avuto come focus la nuova regolamentazione e i suoi risvolti operativi, con gli interventi di Fausto Parente, dell'autorità di controllo IVAS, gli esponenti dell'ANIA e del capo segreteria tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico Stefano Firpo. Nella seconda parte della giornata gli investitori istituzionali hanno illustrato i loro programmi davanti a una platea di assicuratori, soggetti, questi ultimi, che oggi avranno un'opportunità di business in più. È positivo per le compagnie di assicurazione la possibilità di avere un investimento più consapevole nell'economia italiana, noi speriamo che questo serva anche all'Italia in termini di crescita e di prospettiva di sviluppo.